C'è una scuola dove si studia la fotografia, il cinema, la grafica e la pubblicità. Una scuola all'avanguardia dove si realizzano programmi televisivi, manifesti, murales, animazioni e spot, come questi. Una scuola che da ormai vent'anni lavora con il fotoritocco, il montaggio video e la grafica al computer. L'unica scuola dove già al terzo anno si può conseguire una qualifica europea. Professionale grafico e multimediale di Grosseto, la scuola della comunicazione creativa.